Loro vengono dal mare e il loro pop punk è una musica buona per tutte le stagioni. Sono con noi i Four Seasons. Novità di riserva, occasioni e sensazioni, state cognerle, riverle, crescere. È un treno che passa una volta sola, non posso aspettare ma devo solo salvare. Indifferenza, quel sorriso è facile, porti chiuse, mangi in merda, vido a stare male. Ma nel tuo cuore tu lo sai che resterai, è solo la voglia di credere in te. Lo senti che, forse è meglio così. Lo senti che, andare più a dirvi qui. Lo senti che, basta fare così. Lo senti che, fa culo e non ci penso più. Grazie a tutti. Lo senti che, forse è meglio così. Lo senti che, andare più a dirvi qui. Lo senti che, basta fare così. Lo senti che, fa culo e non ci penso più. Sono in compagnia dei Four Season e vado subito a chiedere a Paolo, ciao, di presentarci i componenti del suo gruppo. Sì, Matteo, Fabrizio e Edoardo. Voi vi chiamate Four Season, ovvero le quattro stagioni. Siete per caso appassionati di Vivaldi? No, no, non è per quello che ci chiamiamo Four Season. Il nostro nome deriva appunto dalle quattro stagioni perché ognuno di noi ha uno stile diverso sia nel vivere che nel vestire, nel carattere, come appunto le quattro stagioni, sono tutte diverse. Quale stagione rappresenta ognuno di voi? Ognuno ha una stagione, diciamo, ognuno ha una stagione. Tu ad esempio in cosa ti vedi di più? Io magari l'inverno perché magari sei un po' più cupo. Eh, infatti un po' più cupo, no? Nei vostri testi io so che emerge bene il vostro desiderio di successo. Non vi fa un po' paura il successo? Come cercate di raggiungerlo? No, allora, noi appunto come il nostro scopo e tutto quanto, cerchiamo appunto di, come le quattro stagioni, essere, rivederci appunto in tutto quello che facciamo. Quindi nei nostri testi cerchiamo di mettere le proprie, diciamo, ognuno mette un po' di suo, capito? Sì, le sue caratteristiche. Sì, le sue caratteristiche e tutto quanto. Quindi i nostri testi possono andare dall'amore fino ad arrivare magari a un'esperienza vissuta da uno di noi, sempre un po' differente. Quindi li create tutti insieme? Sì, sì, cerchiamo sempre di fare tutti insieme. Mettendo insieme tutte le vostre esperienze di vita. Certo, sì, sì, sì. E cos'è il successo in particolare? Ma per noi il successo, cioè almeno per quanto riguarda me, o comunque so che tutti sono d'accordo, il successo per noi comunque è vedere le persone che magari sono sotto il nostro palco, che cantano le nostre canzoni, che magari le facciamo di notte in casa o quando siamo tutti insieme, così, e fa molto piacere. Per noi è successo comunque vedere le persone che ci seguono, che cantano le nostre canzoni e si divertono guardandoci, diciamo. So tra l'altro che voi avete già fatto diversi concerti. Sì. Ce n'è qualcuno in particolare che vi è rimasto nel cuore? Guarda, noi come tutte le band abbiamo iniziato dal classico bar di paese, siamo fatti conoscere così, classici bar, pub, i nostri amici. Che aneddoto particolare, qualcosa di strano che è successo nella vostra carriera. Diciamo che la cosa più, penso, la cosa più bella che ci è successa è partecipare a un'apertura di un gruppo famoso e divertirci con loro, tra di noi, fare casino se si può dire così, divertirci al massimo. Siete una squadra, un gruppo di amici. Siamo una squadra molto unita, oltre che essere tutti molto amici. Sempre si divertono, fanno musica insieme. Sempre, per quello sempre. Quali emozioni avete provato nel suonare al nostro live? Guarda, indescrivibili. Su un palco così, così bello, con questa organizzazione non c'era ancora capitata. Direi che vi classificavano un'esperienza nuova. Una bella esperienza da portarsi nel vostro bagaglio. Assolutamente, nel nostro bagaglio, diciamo, piccolo bagaglio di esperienze che pian piano si evolve, diciamo. Speriamo, se tutto... Certo, ve lo auguro. Avete già in mente qualche data per il futuro? Avete già qualche progetto? Sì, per quest'estate abbiamo in programma un tour in Inghilterra che ci terrà occupati dieci giorni. È la prima volta che andate all'estero? Sì, per ora abbiamo girato solo al nord Italia, abbiamo fatto dei mini-tour e adesso ci dedichiamo all'Inghilterra. All'Inghilterra, chissà se gli inglesi vi apprezzeranno, insomma, lo speriamo che anche i londinesi... Dove in particolar modo andrete? Siamo sulla spiaggia di Brighton e poi l'entroterra negli intorni. Non sono un gran studioso di geografia. Va bene così, dai, c'è il gioco del nome della città, va benissimo. Se volete venire... Ma certo, noi invitiamo tutti i nostri telespettatori a seguire i Four Season nel loro tour estivo. Grazie. Vi ringrazio per essere stati con noi ragazzi. E adesso è giunto il momento del nostro ospite, del nostro solito ospite. Solitamente abbiamo in studio esperti di musica, quest'oggi invece avremo un esperto di televisione. E tu, stai pronta a vivere la tua passione per la musica? Grazie. Ciao. 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 Ciao.